Ciao a tutti, in questo video vi mostro come creare un Pupin Cookie fatto in casa. Bene, prima di tutto mi scuso per la voce, ma sono raffreddata. Iniziamo. Per creare il nostro kit abbiamo bisogno di una vaschetta di yogurt, una confezione di yogurt da due scomparti, un cucchiaino, una spatolina, delle bustine, un coperchio, delle vaschette di alluminio, però utilizzeremo solo il coperchio, poi delle forbici, nastro adesivo o scotch, e le etichette con le istruzioni che troverete nell'info box da scaricare. Poi abbiamo bisogno per la parte commestibile di un cucchiaino di zucchero a velo, un cucchiaino di farina, un cucchiaino di cacao amaro, un pizzico di bicarbonato. Per la decorazione abbiamo bisogno di un cucchiaino di zucchero a velo, una punta di colorante alimentare rosso, ed è la granella colorata. innanzitutto iniziamo con il coperchio, a prendere le dimensioni, a formare il nostro coperchio della vaschetta. così. Facciamo il contorno e lo andiamo a ritagliare. così. Dopo aver formato il coperchio, tolto le etichette, alla confezione mettiamo da parte, prendiamo il file scaricato, stampato, la parte dei numeri, e iniziamo a ritagliare i numeretti, a quadretti, così. queste le andremo a incollare sulle bustine. Dopo aver ritagliato i nostri numeretti, le andiamo a posizionare sulle nostre bustine con il nastro bioadesivo. A questo punto avremo ottenuto delle bustine numerate 4. Allora, nella prima bustina andiamo a inserire le polveri bianche, un cucchiaino, il cucchiaino che dovrete mettere nei pupi in cookie, un cucchiaino sì, anche senza far casino, un cucchiaino di zucchero a velo, un cucchiaino di farina, e tutto il pizzico di bicarbonato, se riesco a prenderlo. e noi scorreremo un piccolo di binderio. Come facciamo? done. facciamo prima così. Bene. Nella bustina numero 1, le polveri bianche. Nella bustina numero 2 mettiamo un cucchiaino di cacao, se volete potete aggiungere un poco di cannella, io ce l'aggiungo, una punta. Nella terza bustina metteremo zucchero a velo, 3 cucchiaini, regolatevi voi, 2 e mezzo, 3, io ce ne metto 3, 3 scarsi. E' il pizzico piccolissimo di colorante alimentare rosso. Chiudiamo. Nella quarta bustina metteremo solo il materiale per decorare, cioè la granella. Arrivati a questo punto possiamo confezionare il nostro cuppio in cuppio mettendo la spatolina con un po' di scotch. Inserisco il cucchiaino, siccome è troppo lungo e fa volume e non si chiuderà bene, io voglio inserirlo in una vaschettina di questi. Allora lo vado ad accorciare un po', sperando di non spaccare niente. e non lasciate scherce. Tagliatelo a poco a poco, in modo che non si distrugga tutto. Così. Non deve lasciare pezzettini che possano staccarsi all'interno. Allora mettiamo il cucchiaino, le nostre bustine, 1, 2, 3 e la quarta. Prendiamo. Un piccottino vuoto. Le istruzioni all'interno delle piccole piccole piccole. Prendiamo. Prendiamo. l'interno. Adesso l'etichetta. Vabbè, io ho fatto un po' i bordi così. Una storia di sirva. Il nostro cookie è terminato. Ora lo andiamo a provare. Grazie. 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 Grazie.